Doppie dimissioni con effetto immediato che hanno provocato una specie di terremoto di fine anno in Vaticano. Hanno lasciato infatti l'incarico il direttore e il vice direttore della sala stampa Greg Burke e Paloma Garcia Ovejero. A guidare per ora di interim la comunicazione sarà Alessandro Gisotti, finora coordinatore dei social media. Le dimissioni dei due responsabili nell'area da qualche settimana e annunciate via Twitter vengono giudicate come uno schiaffo a Bergoglio in aperta polemica con il recente riassetto del di Castero per la comunicazione della Santa Sede. Una polemica partita con la nomina a nuovo prefetto di Paolo Ruffini, subentrato a Monsignor Viganò, costretto a lasciare dopo aver falsato una lettera di Benedetto XVI.